Il nono obiettivo dell'agenda 2030 è imprese, innovazione e infrastrutture. Se gli scienziati fanno un'invenzione, questa sarà un'innovazione. Ogni scoperta ci può aiutare per conoscere e per migliorare, per sviluppare il ragionamento e per ridurre l'inquinamento. La scienza e la tecnologia al servizio dell'umanità possono offrire nuove opportunità. Grazie Grazie